Buongiorno, sono Rosa Berardi, sono un'imprenditrice. Ho colto la passione per l'olio di oliva per un'azienda familiare. Le motivazioni sono anche i miei figli, perché loro, avendo studiato a una scuola agraria, l'ho fatto anche per loro. Nella mia azienda usiamo mezzi moderni, nuovi. Per quanto riguarda la raccolta, abbiamo una raccolta meccanica con un trattore e uno scuotitore. Le olive vengono raccolte e vengono conferite in cooperativa. Vengono offrate entro 48 ore, seguendo il disciplinare della DOP Terra di Bari, sotto zona Bitonto. Soltiviamo cultivar chiamato Oliarola e Cimo di Bitonto, proprio perché è una tradizione portata dai miei nonni, dal mio padre anche, e che vorremmo portare avanti anche noi. L'incontro con Carapelli è stato molto stimolante perché mi ha offerto la possibilità di far conoscere il mio prodotto a tutti i consumatori. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.